La Scuola Media Virgilio di Cremona è interessata dall'agosto del 2003 ad interventi notevoli per l'adeguamento antisismico che arrivano a sfiorare i 5 milioni di euro grazie ai finanziamenti del fondo PNRR sommati a un contributo statale e comunale. I risultati che si stanno ottenendo però lasciano molti nel dubbio, soprattutto i genitori degli alunni che si dicono ora preoccupati per le copiose travi inserite non solo all'esterno della scuola ma anche all'interno di due sezioni che attraversano l'aula per intero ridimensionando negli spazi e rendendo le classi stesse uniche nel loro genere. Un intervento che cambia radicalmente l'aspetto delle aule e l'esperienza degli studenti che dovranno imparare a convivere con le ingombranti travi. Il tema sicurezza è poi al centro delle preoccupazioni dei genitori. Non so se la sicurezza c'è così adesso ma mi sembra una stupidata così non piace il lavoro così poi in una scuola vedere le sbarri mi sembra una prigione così poteva fare in un altro modo secondo me. Magari dà semplicemente fastidio onestamente perché da come si vedono dalle foto non è propriamente pratica la trave in quel punto però se da progetto serviva in quel punto non è che si possa fare molto. Visto che ha finito i lavori mi sembra una cosa un po' assurda. Te l'ho visto sono rimasta un po' basita. Infatti ho chiesto al mio figlio ma è la tua classe e mi ha detto di no. Io ho pensato che può cadere in testa un ragazzo. Magari non succede niente anche in sicurezza. I ragazzi e le ragazze incuriositi da giorni dalle travi poste a sostegno della struttura credono che non sia agevole averle in classe. Io penso che sia abbastanza brutto averle in classe. Cosa dicono gli altri ragazzi e le altre ragazze? Non ci hanno detto niente però in teoria non è una cosa bellissima averla in classe. Chi fa lezioni in quelle classi non è comodissimo. Secondo voi qualche ragazzo potrebbe arrampicarsi? Conoscendo gli individui che potrebbero farlo. Le criticità quindi non si sono fatte attendere per quello che è un progetto inusuale all'interno di una scuola. Domani scopriremo il parere del dirigente scolastico e dell'amministrazione comunale che saranno presenti nel cantiere per constatare l'avanzamento dei lavori. Per ora la minoranza ha già presentato un'interrogazione per conoscere il responsabile del procedimento amministrativo che ha autorizzato il progetto e capire se fossero state presentate delle alternative alle installazioni delle travi.